Il microcemento per esterni ha delle caratteristiche antiscivolo molto molto elevate. Ha uno spessore bassissimo, quindi solo 3 mm, che mi permettono di rivestire superfici esistenti in piastrelle, in sabbia cemento, in marmo, anche su vialetti, terrazzi, bordi piscina, pati e diciamo tutte quelle superfici che riguardano l'esterno delle abitazioni. Quali sono i vantaggi del microcemento? Sono la sua versabilità, la sua personalizzazione, il suo basso spessore e la sua estrema resistenza all'usura e agli agenti atmosferici in esterno. Il microcemento è resistente ad ogni evenienza, è particolarmente apprezzato per la sua resistenza al calpestio, all'usura, alla pioggia, agli urti, agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici che si verificano soprattutto all'esterno. I pavimenti in microcemento per esterno, oltre ad essere antiscivolo, sono sicuri per tutta la famiglia. Grazie alla loro matericità permettono poi, con l'aggiunta del protettivo come la Plum Sealing o l'Hydro Repa, di aggiungere degli additivi che vanno ad aumentare proprio il grip sulla superficie. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri canali per rimanere sempre aggiornati sulle soluzioni isoplan. Inoltre nella descrizione qui sotto trovate dei link se volete approfondire e avere informazioni sui nostri progetti. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video!